Musica Wey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video, io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi delle novità relative ai giorni che stanno per arrivare di Fortnite ragazzi un sacco di news che voglio darvele belle fresche, fresche come le fresche, fresche parleremo oggi nel video ovviamente di alcune cose interessantissime della nuova skin, di alcune cose di una nuova skin che è stata recuperata nei file di gioco e che è molto molto interessante per quello che riguarda una possibile season 8 voi ragazzi prendetelo sempre con le pinze parleremo anche ragazzi di un oggetto stranissimo che è stato recuperato nei file di gioco che è il backpack infinito ragazzi sì, avete capito bene, uno zaino che sembrerebbe abbia la possibilità di essere utilizzato infinite volte un oggetto che dovrebbe essere tipo un consumabile come il jetpack e chiuderemo ragazzo, ragazzo, ragazzi, con i numeri del successo ragazzi vi dirò un attimino due statistiche su quello che ha fatto Epic Games quest'anno ma prima ragazzi, eh dai, un bel pollicione in su ragazzi se ancora non lo avete fatto iscrivetevi tantissimi al canale mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video soprattutto quelli della mattina che vi parlano delle news ma prima la domanda eh ragazzi ragazzi salve la domanda ragazzi un commento qui sotto mi raccomando perché voglio sapere da voi qual è il vostro fucile a pompa preferito il mio ragazzi attualmente è il fucile a pompa pesante, quello nuovo, il primo insomma questo qua che vedete ragazzi fa troppo, troppo male ditemi un po' pompa del nonno heavy pesante o quello tac scrivetemelo qua sotto nei commenti ma quindi ciao Gioilande e vado alle ciance andiamo subito a parlare del primo argomento che è quello di cui vi anticipavo poco fa ragazzi ve l'avevo già fatto vedere un paio di giorni fa forse tre giorni fa questi ragazzi sono piccone ed eltaplano della nuova skin Nautilus che ancora non è stata rilasciata e della quale non sappiamo neanche la forma di solito ragazzi i leaks che vengono recuperati su internet mostrano comunque quello che dovremo vedere ragazzi non abbiamo ancora nulla sappiamo che ci sono ancora cinque skin inserite nei file di gioco all'inizio delle vacanze natalizie ma ancora non sappiamo come sono fatte tutte queste cinque il Nautilus ragazzi è un altro elemento che ci riconduce ovviamente alla possibile trama della season 8 ne stanno parlando in tantissimi su youtube ragazzi guardate il piccone vedete che c'è il polpazzo attaccato al piccone raga sembra che oltre ad esserci intanto il mio personaggio fermo da 15 minuti e non ne sappiamo in realtà il reale motivo sembra che si tratti di Cthulhu ragazzi sapete che Cthulhu sei sapete che è Cthulhu ragazzi allora Cthulhu dovrebbe essere il nuovo protagonista della storyline del nuovo pass battaglia quindi della season 8 molto molto simile era tipo una bestia con le ali ma la faccia da pesce quindi ragazzi no proprio da pesce tipo la trota tipo il il polpo ragazzi e sembrerebbe davvero che possa avere affinità con tutto quello che dovremo aspettarci nella prossima season tra l'altro ragazzi il signor Cthulhu è anche quasi riconducibile ad uno degli standardi presenti proprio nel pass battaglia di questa season quindi ragazzi dovremmo davvero aspettarcene delle belle potrebbe arrivare proprio lui ovviamente vi terrò aggiornati su tutto quello che scoprirò riguardante la season 8 quasi a metà della season 7 mica pizza fichi e banane andiamo avanti ragazzi e parliamo appunto dei grandi numeri di Epic Games raga io ve lo dico non lo so scrivere ma ve lo dico Epic Games nel 2018 ha un netto di 3 bilioni di dollari raga 3 bilioni di dollari che non sono il fatturato dell'azienda sono i guadagni quindi tolte tutte le spese hanno guadagnato 3 bilioni di dollari si conferma assolutamente al momento una delle multinazionali nel gaming più affermate con una stima del valore dell'azienda di 15 bilioni di dollari una cifra che non è neanche quantificabile assolutamente nella mente umana ragazzi una roba esagerata e quindi ovviamente questi numeri fanno sì ci danno una sicurezza se vi piace così tanto Fortnite se ci piace così tanto Fortnite che il gioco andrà avanti alla grande con super update lo staff rimarrà sempre sempre pronto per dare la qualità ottimale a noi videogiocatori e ovviamente ragazzi sorprese novità e tante tante season non sono lì pronte che ad aspettarci non chiedetemi che cosa vi ho appena detto andiamo avanti ragazzi parlando invece di un'immagine interessantissima la aerial assault trooper quindi una delle skin mai rilasciate nello shop ufficiale di Fortnite ma presente solo nello shop stagionale della season one questa ragazza è l'immagine della nuova modalità a tempo limitata che mostra proprio la skin ora non sappiamo se questo voglia dire che ci sia una remota possibilità che la skin ritorni nei nostri shop comunque è sempre una bella cosa vedere delle immagini fatte così bene e che potrebbero davvero darci un barlume di speranza soprattutto ai collezionisti di skin ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di questo benedetto backpack infinito di cui non si sa assolutamente nulla sembrerebbe che in realtà vi faccio sentire delle cose non preoccupatevi esiste è stato trovato ragazzi sono stati trovati dei file audio di questo backpack o di questo oggetto che comunque dovrebbe essere trovato non so perché c'è un deltaplano lì non so perché ho messo un deltaplano ah perché ci dà la possibilità di riaprire il deltaplano ragazzi sentite insieme a me questi suoni insomma ragazzi tanti suoni nuovissimi come avete sentito molto particolari e da quello che i leakers ci dicono sembrerebbe appunto che prestissimo insieme ai nuovi update arriverà anche questo nuovo oggetto magari direttamente in una modalità a tempo limitato per vedere se funzionerà bene ed eventualmente spostato sul battle royale ma ragazzi voglio parlarvi dei 5000 vbucks che happy games regala a tutti coloro che hanno acquistato save the world non è proprio save the world completo vi spiego c'è stato un problema sapete che ha mandato lo staff in vacanza e han fatto sui casotti chi ha comprato in questi giorni natalizi salva il mondo e l'ha pagato a prezzo pieno anche se in realtà come sapete è scontato riceverà o il prima possibile nella lobby 5000 vbucks con le scuse ovviamente di epic games per avervi fatto pagare di più questa è una schermata originale di un utente che li ha ricevuti sono tanti in realtà quelli che lo hanno che li hanno ricevuti quindi ragazzi gg se per caso uno di voi si è comprato save the world e pensa di averlo pagato a prezzo pieno e non ricevi vbucks scrivetelo a epic games che sicuramente loro vedranno la vostra transazione e vi rimborseranno subito con 5000 vbucks ragazzi io direi che per oggi ne abbiamo veramente dette di tutti i colori spero che il mio video vi sia piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto di iscrivervi in tantissimi al canale e di attivare la campanella noi ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.